La Polizia di Stato ha dato esecuzione a sette ordinanze di applicazione di misura cautelare se in carcere è un obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria messa dal GIP presso il Tribunale di Taranto su richiesta dalla Procura Ionica a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a vario titolo e con varie condotte, dei reati di incendio doloso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, detenzione e porto di armi da fuoco. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Procuratore della Repubblica di Taranto, la dottoressa Eugenia Pontassuglia. Questa operazione nasce all'esito di due episodi incendiari verificati sin danno di un imprenditore e del titolare di una concessionaria di auto tarantina. Gli sviluppi poi hanno portato all'emersione del contesto entro il quale quei due episodi erano maturati e di altri episodi delittuosi. Degli spunti investigativi avevano consentito agli investigatori della squadra mobile di concentrare l'attenzione su due soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia come possibili autori materiali dei fatti. L'ipotesi ha trovato numerosi riscontri nell'analisi delle registrazioni di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nei pressi della concessionaria dei domicili degli stessi. L'attività tecnica di intercettazione delle utenze in uso agli stessi ha consentito di ipotizzare che i due autori immateriali fossero stati ingaggiati da una terza persona che a sua volta avrebbe agito su un mandato di uno dei titolari di una rivendita di auto concorrente della medesima concessionaria e che aveva motivi di assio e risentimento nei confronti del suo amministratore unico. È emerso che il titolare della concessionaria, ritenuto vicino ambiente della criminalità tarantina, avesse costretto il titolare di una rivendita di motocicli a rinunciare all'acquisizione e locazione di un locale commerciale a tegua la sua attività, in quanto oggetto di interesse di un soggetto vicino a un utoclammafioso attivo nel capologo ionico e che avesse la disponibilità di almeno due pistole, una delle quali sarebbe stata affidata a un suo dipendente, assunto per farli da guardaspalle e buttafuori. Le indagini hanno dimostrato come i due fratelli, insieme ai propri familiari, gestissero anche una fiorente attività di usura. È la nuova mafia che si insinua nella società civile e trova molto spesso terreno fertile nelle connivenze che personaggi che operano nel mondo dell'economia legale tendono a stringere con esponenti della criminalità organizzata nell'ambito di un rapporto di scambio reciproco di favori. Un risultato importante è quello raggiunto grazie al lavoro sinergico di Polizia di Stato e Procura della Repubblica come sottolineato in conferenza stampa dallo stesso questore di Taranto, il dottor Massimo Gambino. La sinergia tra la Procura della Repubblica e la Polizia giudiziaria, in questo caso la squadra mobile della questura di Taranto, che è un qualcosa che negli anni si è maggiormente cementata, è indiscutibile. Come ha detto il Procuratore, ci deve essere questo smosi tra noi e loro, si lavora con lo stesso obiettivo e credo il risultato finale è quello che oggi vediamo sul campo. Grazie. 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 Grazie.